una delle tante domande che i pazienti ci pongono è quella che riguarda il glande dopo l'impianto della protesi peniena idraulica ci dicono ci chiedono il grande sarà un grande soffice sarà un grande mobile avrò problemi riuscirò a penetrare fondamentalmente esistono due tipi di glande ci sono due tipi di pazienti ovviamente un paziente vascolare che è quel paziente che ha un problema ad ottenere o a mantenere l'erezione oppure che la ottiene e non riesce ad avere quella penetrazione soddisfacente oppure che fino a poco tempo fa assumendo dei farmaci andava molto bene adesso non risponde più ai farmaci orali inibitori della fosfodiesterasi 5 e poi ci sono dei pazienti che hanno subito invece una chirurgia pelvica color retto e soprattutto prostatectomia radicale i primi pazienti sono dei pazienti che hanno una normale vascularizzazione del glande i secondi hanno una vascularizzazione che è diminuita o quasi annullata perché la chirurgia determina poi la resezione di alcuni piccoli vasi che mandano più sangue ai tessuti nello specifico al glande che è costituito da un corpo spongioso che è ricco ricco di tessuti vascolari il primo paziente è un paziente che risponderà normalmente avrà un glande che si gonfia indipendentemente il secondo paziente potrebbe avere un glande che non risponde tanto alla stimolazione perché quello che noi facciamo è andare a posizionare la protesi all'interno dei corpi cavernosi non posizioniamo la protesi nel glande il glande fa da sostegno alla protesi ma è una struttura vascolare indipendente con una vascularizzazione a parte quello che si chiama effetto concord è un mal posizionamento del dei cilindri cioè se io il cilindro lo posiziono esattamente nel punto in cui va selezionato il glande sarà un glande non mobile se io il cilindro perché tecnicamente non lo so fare o perché ho paura di perforare nella porzione apicale del pene lo metto un po più indietro avrò quello che si chiama effetto concord cioè un grande che si muove e quindi sarà molto difficile avere una penetrazione questo è un errore tecnico che viene effettuato nelle mani poco esperte di chi non ha un volume molto alto di impianti protesici nella propria esperienza chirurgica e quindi non ha quelle certezze tecniche quando impianta il device quindi due grandi il glande vascolare il glande post chirurgia in tutte e due i casi comunque l'assunzione di un piccolo inibitore della fosfodiesterasi 5 tipo il tadalafil da 5 milligrammi o l'utilizzo di gel intra uretrali tipo al prostadil il gel che si mette nel meato può dare una soddisfazione in termini di vasodilatazione del glande e quindi consentire una penetrazione eccellente l'errore tecnico è il glande ipermobile o effetto concord perché la protesi è messa male il glande soffice è tipico dei pazienti prostatectomizzati negli altri casi il glande avrà una perfetta vascolarizzazione anche lo stimolo sessuale dato dalla durezza dalla turgidità dei cilindri permetterà di avere poi una maggiore vascolarizzazione un maggiore eccitamento a livello del corpo spongioso del glande grazie